Cosa stavi riprendendo? Non l'ho ripreso io. L'hanno lasciato poco fa. Voglio solo riavere la mia piccola. Fate tutto per riportarmi mia figlia. Lei era lì agli scivoli. Un secondo ed è scomparsa. Pensi veramente che l'abbia presa lui? Ti piace quello che vedi? Io vengo con te. Devi solo osservarlo da vicino. Tenergli gli occhi addosso. E un giorno, anche se non è affatto un criminale, puoi stare sicuro che lo diventerà. L'acpetto i tempi. Quota L'acpetto i tempi. combina culo